ciao a tutti ragazzi e ragazze oggi volevo fare una casa perché è per cosa per i trudi chi non li conosce sono dei pupazzini che vendono a Lidl no a un supermercato e io ho preso questi ovviamente ora facciamo la casa per loro allora io sto facendo lo stagno e dopo faremo l'erba invece mia mamma sta dipingendo di rosso le pareti il ricinto il ricinto dopo lo faremo dopo di aver fatto tutto ora ora monteremo i sassi è veramente facile ovviamente aiutatevi da vostra mamma o dal vostro papà a tutti 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 fatto per l'ultima cosa dobbiamo incollare altri due fiori uno due dopo invece l'ultimo lo metto qui e voilà spero che questo video vi sia piaciuto ciao e animaletti? è vero eccoli qua però non offre un cavallo wow e quello io lo metto già dentro vedete che potete anche sbucciarli ciao ops tutto fiori ok i gatti e il pesce va dentro in acqua spero che questo video vi sia piaciuto ciao 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 ciao